Sono Gaetano Cibolla e sono il titolare dell'azienda agricola Murenello. La nostra è un'azienda a carattere familiare che nasce negli anni 70 assieme a mio padre e oggi sta regolarmente continuando a crescere con i miei figli. Siamo specializzati nell'allevamento, nella lavorazione e nella trasformazione delle carni suine siciliane. Valorizziamo e attenzioniamo principalmente quelle del suino nero siciliano perché allevato nel sottobosco con sistema brado e semibrado rispettando il loro benessere. La forza di questo progetto è la mia famiglia. Oggi insieme a loro porta avanti questa storia. Stiamo parlando della costruzione di un percorso che si chiama Qualità.